buongiorno a tutti questa è una puntata di calcio mercato news un po particolare e venire accorgerete subito nel senso che io credo che per il pessimismo e per le cose brutte ci sarà tempo perché se le cose non andranno come speriamo e soprattutto allegri combinerà gli stessi casini che ha fatto negli scorsi anni avremo modo e tempi di criticare jacuzzi dire la nostra ed essere pessimisti ovviamente nel momento in cui finisce una stagione quella che appena terminata e sta per iniziarne un'altra il 10 di luglio è dietro l'angolo è mancano esattamente 20 giorni pensate tra 20 giorni inizia la nuova stagione dobbiamo cercare di essere ottimisti questa mattina nel good morning juventus ho volutamente dato un messaggio di speranza agli juventini mettendo quei tre faccioni nella copertina del good morning rabbio milinkovic sabic e pogba non dimenticandoci che abbiamo fagioli dovrebbe rientrare rovella e quindi insomma non siamo messi proprio male se questi cinque dovessero essere i cinque centrocampisti cardine della juventus con locatelli riserva questo va detto perché io spero che mi eretti venga imbarcato bene perché io ho fatto questo preambolo perché noi dobbiamo pensare alla situazione in cui si trova manna io provo in questo video un tentativo difficilissimo perché io non sono nessuno ci mancherebbe altro ma non è che manna sia il nuovo moggi il nuovo marotta il nuovo italo allodi il nuovo giuntoli no che tra parentesi sta per arrivare segnatevelo sta per arrivare come vi ho detto nei giorni scorsi fine giugno inizio luglio giuntoli arriva da juve il problema è che manna si è trovato non una patata bollente si è trovato un sacco di patate bollente giusto prima di tutto non ha danaro perché la juventus grazie alla penalizzazione o causa la penalizzazione scegliete voi più l'ascelerata gestione di allegri prima di empoli juve della partita perché era completamente sbagliata come preparazione mentale e anche come formazione scese in campo hanno ci sono costati ben 70 milioni circa per l'accesso alla champions league giusto la conference frutta zero niente consideratela proprio una roba così competizione che facciamo per il gusto di farla se la juventus vuole farla se non metterà in campo i ragazzini della next game perché onestamente la conference league non è che ti dia tutto sto blasone o meglio vincerla che no ma se vedi che ti porta via tempo forze energie in campionato meglio abbandonarla almeno questa è la mia opinione stavo dicendo provo a fare manna manna si ritrova giocatori da rinnovare giocatori da rottamare e giocatori ovviamente da vendere giusto allora io se fossi in manna direi chiaramente a quadrado e a bonucci grazie di tutto arrivederci arrivederci perché ci mancherebbe altro siete stati due pilastri della juventus sarete sempre ben accetti a torino sarete sempre accetti sugli spalti a vedere la juve che gioca e se sarà sempre un piacere averti ma in campo voi due non ci dovete più mettere piede e intanto incominci a risparmiare i milioncini per bonucci e per quadrado io ho provato andare sto sto basso e sto basso se non ero bonucci prende 8 milioni o 7 milioni 7 credo quadrado ne prende 6 13 milioni in due al fisco se ne danno altri 13 26 milioni risparmiati messi da parte 26 milioni sandro è stato rinnovato ma c'è l'interesse forte del garata sarai e quindi sarebbe disposto sandro ad andarsene se tu risparmi anche i 6 milioni e mezzo di sandro che fisco deve darmi altre 6 e mezzo quindi sono 13 metti da parte altri 13 milioni poi continui fate voi se volete alla fine non faccio le somme vi dico solo singolo per singolo benissimo quindi già sandro bonucci quadrado smettendoli ci danno un piccolo tesoretto un piccolo tesoretto poi ci sono i nodi culuseschi arthur zaccaria e mckenny allora arthur potrebbe essere ceduto e anche qui se risparmia l'ingaggio più si potrebbe prendere una decina di milioni perché garata sarai ha offerto 10 milioni per arthur non faremo nessuna minus valenza perché è già stato ammortizzato e quindi anche lì metti 10 da parte più l'ingaggio che risparmi di arthur col fisco da pagare e anche lì metti intorno una ventina di milioni e aggiungi altri 20 milioni bene mckenny se trovi una squadra che ti dà 5 milioni 6 milioni 7 milioni io glielo darei subito 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 stiamo bassi 5 milioni via 5 milioni risparmi l'ingaggio non è altissimo l'ingaggio perché un milione e mezzo però sono sempre tre che devi dare il fisco no quindi anche qui 7 8 milioni messi da parte dopodiché abbiamo culuseschi che il tottenham vuole riscattare con una cifra a ribasso e onestamente io gli darei perché abbiamo pagato 45 ha giocato un anno due anni nella juventus ha giocato due anni nel tottenham è stato ammortizzato se ti danno anche 20 milioni 20 25 milioni taglielo taglielo perché porti a casa soli già adesso il compito del mercato di la juve di manna è quello di portare a casa soldi non importa se si svaluta è inutile fare il braccio di ferro come faceva paratici no se non me ne dai 30 lo tengo se non me ne dai 30 lo tengo se non me ne dai 30 lo tengo poi abbiamo tenuto dei cessi di giocatori che non sono serviti a nulla che poi abbiamo dovuto prestare a gennaio oppure a riprestare ricorderete tutte le manovre di prestiti contro prestiti quindi vendiamoli facciamo avete presente la juventus adesso è venuta questa cosa qua è proprio venuta adesso la juventus adesso dovrebbe fare come si fa quando si va su ebay voi avete dischi che non sentite più un videoregistratore oppure un lettore un lettore dvd perché avete quello blu ray e lo volete vendere avete dei fumetti vecchi dei libri vecchi avete qualcosa che non usate più bene li mettete in asta o li mettete in compro subito che ancora meglio e cercate di raccogliere qualche soldino con i soldini che raccogliete magari vi comprate il mac non so raccogliete 1500 euro vi comprate il macbook raccogliete non so mille euro vi comprate un iphone raccogliete 800 euro vi comprate quel cacchio che ne avete voglia non so se mi sono spiegato cioè bisogna raccattare su soldi lo so che è una roba triste perché ci chiamiamo juventus ma mica colpa di max montagna e neanche di manna poverino se allegra ha fatto schifo e se la juventus è stata penalizzata sarà colpa pure di qualcun altro no lo vogliamo capire allegriani dei miei zebedei che se lui la partita con la partita di empoli la vinceva e non mi venite a dire che la juve di quest'anno dello scorso anno non era in grado di battere l'empoli a empoli non me lo venite a dire e non mi venite a dire l'impatto psicologico perché non siete non siete psichiatri e non siete neanche dei psicologi senti dei cazzari quando difendete allegri con queste scuse puerili e banali per cui messo da parte tesoretto magari tieni zaccaria che secondo me è un ottimo centrocampista di riserva insieme a locatelli imbarchi miretti magari ti fai anche pagare che ne so io lo venderei personalmente molti dicono no perché dopo si diventa bravo ma come fa a diventare bravo non l'avete visto giocare sto qua eh bene richiami cambiaso richiami pellegrini che sono due terzini tra l'altro possono giocare entrambi su entrambe le fasce che dire rovella è un centrocampista che tu non devi neanche pagarlo hai i soldi puliti puliti per comprare milinko vizzavici e tu ti puoi fermare la juve può fermarsi a fare il mercato solo con milinko vizzavici perché lo titolo vuole 70 milioni trattabili significa che se tu magari gli dai miretti che a sarri piace tra parentesi tra parentesi a sarri piacciono miretti sole e healing healing non si tocca healing non si tocca io gli darei costici se a sarri piace costici te lo do eh a costici te lo do sarri sto facendo manna eh capite non sono impazzito sto cercando di fare manna quindi il significato di questo mercato è tutto orientato su un centrocampista di qualità perché io insisto su milinko vizzavici mica perché lo voglio io eh ma perché allegri sono sei anni che lo vuole quando ancora quando finì cardiff lui voleva già milinko vizzavici la sera di cardiff cioè l'indomani di cardiff non gliel'hanno preso neanche due anni dopo nel frattempo è arrivato a sardio è arrivato a pirlo è ritornato lui per altri due anni e non gliel'hanno ancora preso e lui lo sapete che è è come si dice dalle mie parti egnuco e testone vuole milinko vizzavici non è che vuole la signora Petronilla vuole un buon giocatore se poi torna quello di due o tre anni fa è un grandissimo giocatore io credo che alla Lazio si stia spegnendo perché le velleità della Lazio onestamente non è che siano no anche se paradossale no che quest'anno se venisse la Juve non farebbe la Champions come alla Lazio ma perché la fa la Lazio cioè delle cose il calcio è strano no però giustamente lui penso che pensi in prospettiva no si presume che la Juve se non succedono a catastrofi l'anno prossimo ritornerà in Champions League e ovviamente lotterà per lo scudetto speriamo quest'estate questa è la prossima stagione quindi come vedete non è questione di tirar fuori i soldi caccia alla grana caccia alla grana qui è sufficiente smettere quadrado bonucci sandro mandar via arthur kuluseschi e come cazzo si chiama mckenny mckenny e raccimo gli soldini raccimo gli soldini un 60 milioni secondo me li porti a casa vuoi che la Juve non abbia 10 milioni per raggiungere allo titolo per appunto per Minkovic Savic poi ripeto Savi vorrebbe un giovane no magari gli presti sole glielo presti non glielo vendi sole glielo presti mi ha letto glielo vendi lo vuoi tutto tuo tutto tuo mi ha letto te lo regalo e incomincierebbe già essere un'altra cosa poi ovviamente l'operazione più importante è quella di rinnovare la bio perché pare che a 9 milioni intenda rimanere gli dai quindi due milioni in più di quello che prende adesso anzi un milione e mezzo perché ne prende 7 5 e li fai due partite amichevoli torne te lo paghi con la torne in america in america perché tanto tu ce l'hai già la bio come giocatore e ovviamente poi c'è come ho messo stamattina anche nel trio delle meraviglie l'incognita Pogba perché se Pogba si mette in testa che non ha maledizioni non ha malocchio non ha niente non so se avete seguito la vicenda ha dei problemi mentali non nel senso che pazzo e non fraintendetemi ha delle turbe ha delle ansie ha delle paure gli sono venuti attacchi di panico capite io li ho avuti in passato dopo la morte di una persona cara e sono stato malissimo gli attacchi di panico sono incontrollabili non so se qualcuno di voi ha avuto questa sfortuna di averli sono sono devastanti quindi questo ragazzo va messo nelle mani una persona sapiente in gamba che lo mette a posto mentalmente se sta bene fisicamente e fa una preparazione adeguata senza stravizi senza forzare troppo ho detto anche stamattina per me il centrocampo Rabiot, Milim, Kovic, Pogba, Fagioli se vedete voi se a 4 o a 3 si può giocare 3 e 1 sta giù cioè è diverso da quello con Locatelli con McKennie con Arthur con Ramsey questa robaccia schifosa qua abbiamo avuto i centrocampi da vomito è da vomito io credo che Pirlo con un centrocampo come questo farebbe faville buon Pirlo che non è un esperto però io sapete che io riproverei a prendere Pirlo sono impazzito io non ero un fan di Pirlo ma secondo me Pirlo adesso dopo l'esperienza che ha avuto all'estero e con noi primo anno farebbe bene così mi è venuta sta cosa pensaci Juve mandi lì Allegri lo paghi no a Pirlo gli dai 2 milioni perché con 2 milioni non si accontenta secondo me vabbè così ne ho buttato ne ho buttato anch'io ogni tanto faccio una buttata dai è una cosa mia non c'è nessuna notizia perché dopo mi dite ah Max ha detto che arriva Pirlo non ho detto che arriva Pirlo è una buttata sapete cos'è una buttata un'idea così pazza che mi è venuta questo è il quadro un po' del mercato Juve no provando a fare manna in attesa che arrivi giuntoli quindi lo sapete no che a proposito il nuovo direttore sportivo della Juventus quando attiverà il GPS oppure il navigatore per arrivare alla continassa quando arriverà davanti al cancello della continassa il navigatore gli dirà giunto lì giunto lì arrivato vabbè stupidata stupidatissima così è mia questa non l'ho copiata da nessuno quindi se fa schifo fa schifo perché l'ho fatta io se è carina perché l'ho fatta io bene giunto lì niente la Juventus dobbiamo sostenerla fino a prova contraria quando non gioca è inutile che andiamo ad attaccarla perché non ci sono prestazioni da giudicare da criticare staremo a vedere abbiamo visto anche insomma che non è che l'Italia poi faccia vedere delle grandi cose no quindi non è che il materiale sia poiché abbiamo dei giocatori che potrebbero risollevare la Juve con un'abile manovra di di cessioni e di svendite si potrebbe fare un tesoretto per comprare il Mininkovic Savic i portieri ce li hai la difesa è forte perché con Rugani veramente Rugani che abbiamo visto quest'anno merita di giocare con Rugani Danilo che ha dimostrato di essere in grado ovviamente Bremer e Gatti che sono i forti sono i due perni centrali della difesa sulla fascia hai la fortuna da avere Cambiaso e Pellegrini magari prende un ragazzino ci sono dei nomi che stanno girando probabilmente qualcuno arriva sulla fascia state tranquilli centrocampo con Fagioli, Mininkovic Savic Pogba, Rabiot come riserva, Zaccaria e Locatelli sono sei centrocampistiche insomma il loro lo fanno davanti hai Chiesa, Milik e Vlaovic che non serve venderlo e poi c'hai anche Ken che magari che ne sai magari si è rivito con più palloni anziché sbagliare cinque palle su sei ne sbaglia magari quattro su sei o tre su sei quindi io non credo che la Juve aveva bisogno di fare grandi acquisti anche perché ha solo diciamo una competizione importante per l'anno prossimo non ne ha due no sapete che per me quelli importanti sono campionati Champions League la Conference League chi se ne frega se andiamo fuori agli ottavi che non credo perché insomma ci sono delle squadre l'Ibernias, lo Shark Rovers come cazzo si chiama cioè bello è bello perché sono tutti luoghi particolari che chi andrà in trasferta metterà posti della terra molto bello dove magari io sono stato a far foto e non sono stato mai allo stadio però ti dico vi dico l'anno prossimo la Juve deve concentrarsi sull'unico obiettivo lo scudetto il campionato lottare per lo scudetto arrivare a male che vada arrivare nelle prime quattro chi se ne frega della Coppa Italia chi se ne frega della Conference League poi se vengono a casa Conference League e Coppa Italia tanto meglio ma la Juve l'anno prossimo deve rientrare dopo dopo che per tre anni è stata fuori dai giochi deve rientrare a lottare per lo scudetto e con questa squadra lo so lo so lo so cosa state per scrivere sì ma c'era Allegri in panchina eh lo so eh ma io non è mica colpa mia eh è mica è colpa mia uno mi ha detto eh ma perché Allegri va Allegri io non ho mai detto che Allegri andava eh io ho fatto dei video caro il mio furbacchione che mi hai detto che io ho detto che Allegri andava via ho detto che speravo che Allegri andasse via ho incrociato le dita ho fatto anche un video uno short dove ho pregato in arabo che non so l'arabo che lo prendessero gli arabi ho sperato che il Paris Saint Germain lo ingaggiasse non ho mai detto che Allegri andrà via io ho fatto una live Gobbo TV subito dopo la fine del campionato dove ho detto che al 70% Allegri sarebbe rimasto alla Juve 70% era e 70% è perché lascio un 30% lascio un 30% perché così è una lumicina di speranza che possa andare via ma io non ho mai detto che Allegri sarebbe stato o esonerato o mandato via l'unica speranza era che lui si ingolosisse in Arabia o si ingolosisse al Paris Saint Germain e lasciasse lui si dimettesse lui dal Juventus spero di essere stato chiaro se avete le orecchie turate dal cerume pulitevele perché c'è della gente che mi mette in bocca cose che non ho mai detto e io mi sono stancato bene scusami sono anche un po' nel bosetto perché passo la mia giornata accanto al mio cane che non sta bene ok e vi assicuro che è abbastanza stressante ecco se devo anche sopportare degli imbecilli che mi mettono in bocca cose che non ho mai detto va bene cose che non ho mai detto come quell'imbecille che ha visto il mio video dove ha raccontato la mia storia con Anakin una mia storia come youtuber con il cuore in mano nei confronti di tutti e vi ringrazio perché avete scritto cose bellissime mi ha scritto a me non me ne frega niente della tua storia mi interessa la mia vita ma che cazzo me ne frega ma è giusto così a ognuno di voi deve entrare a fare la propria vita ma lo vai a scrivere io non è che vado a scrivere sotto un video dei miei amici Kino o di Toselli o di Colpo Gobbo o di Balzarini o di Avsim ma che cazzo me ne frega di quello che hai scritto o di quello che hai detto ma è la palissiamo se non mi interessa quello che dicono non lo guardo stacco il video altrimenti se mi piace gli faccio i complimenti gli dico bel video complimenti ma che ragionamenti è? ma cosa passa per la testa di gente malata che va a scrivere a uno che racconta la sua storia una cosa anche abbastanza commovente di un cane che non sta bene non me ne frega un cazzo della tua vita mi interessa la mia cioè ma secondo voi uno così o un altro che mi ha scritto sì ma come la mettiamo con Allegri ma cosa cazzo c'entra? un video dove faccio l'autobiografia parlo della mia vita cosa cazzo c'entra Allegri? cioè ragazzi ci sono dei problemi seri in giro nel mondo eh sgominateli i pazzi furiosi tirateli via la tastiera tirateli via il computer tirateli via lo smartphone toglieteglielo genitori se sono piccoli oppure mogli o mariti se sono uomini o donne tirateli via sono dei pazzi questi eh ci sono dei pazzi a piede libero per non parlare di certi youtuber mamma mia feccia umana che parla feccia umana che parla bene signori questo è il mercato della Juve io ve l'ho detto se vi arrivano 3000 nomi da tutte le parti non credeteci non credeteci la Juve farà all in come l'anno scorso ci ha provato non c'è riuscita quest'anno riproverà perché Allegri se in testardita quello vuole farà all in così come potrà su Milinkovic Savic se non arriverà Milinkovic Savic se non arriverà Milinkovic Savic vedrete che vireranno su una ciofeca matematico perché un giocatore che ti dà garanzie di qualità e di forza fisica come Milinkovic Savic libero sul mercato a meno di 100 milioni non c'è devi andare su De Bruyne oppure andarti a prendere un cross o un Modric che hanno 38 anni e onestamente onestamente abbiamo visto con Di Maria che cosa è successo anche se sono convinto che Modric e Cross farebbero tutt'altra cosa ma pare che Cross smetta direttore di giocare a calcio perché è stanco ha ragagnato abbastanza ha vinto abbastanza quindi non credo per cui l'unica possibilità di migliorare il nostro centrocampo con buona certezza Milinkovic Savic gli altri a mio modo di vedere sono tutti tentativi poi magari ti sbuca fuori un nuovo Vidal ti sbuca fuori un nuovo Pogba che nessuno conosce ma lì dipenderà molto da Giuntoli quando Giuntoli alla Cortinassa ci dirà se ci sono dei giocatori per adesso la Juve punta su Milinkovic Savic ma non credo che Giuntoli non voglia Milinkovic Savic non credo, anzi non credo bene, io vi auguro una buona giornata e il prossimo Calcio Mercato News sarà come sempre quando ci sono notizie vere io le balle e le fake news non le racconto questo non è una notizia, questa è una mia interpretazione di come secondo me la Juventus dovrebbe fare il mercato ecco perché il titolo di questo video il mercato della Juve ciao